Sul fronte dei precari il ministro ha annunciato che non incontrerà la delegazione che da giorni staziona davanti a Montecitorio. Si va a scoprire che alcuni sono precari veri, altri sono esponenti dell'Italia dei valori piuttosto che esponenti del mondo politico. Francamente credo di dover sottrarre non tanto la mia persona quanto l'istituzione, ministero, ad inutili polemiche che non fanno altro che avvelenare il clima e soprattutto non portano chiarezza. Grazie a tutti.